Non dov'è ancora rischi, tranne questo, per salvare la vita di David. Dopotutto, non ha agito tanto male. Due ore dopo la decisione di salvare la vita di David, Peter Coulter ha lasciato l'organizzazione per sempre. Si è unito alla lotta. David Vincent continuerà quella lotta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.